A Pian Castagnaio si affrontano due squadre in salute, l'Arezzo punta a consolidare il terzo posto, la Pianese a garantirsi il quinto che vorrebbe dire playoff. 4-3-3 per Mariotti e Brando con i bianconeri che partono forte sul sintetico di casa e gli amaranto che devono difendersi. Di occasioni vere però non ce ne sono molte, il primo tiro dell'Arezzo è di Cutolo al diciassettesimo, palla alta. Passano dieci minuti e su questa punizione calciata dal capitano una deviazione fa fuori Crispino, il portiere salvato dal palo. La Pianese pressa tutto campo, limita la regia di Pisano e quando può innesca gli esterni delle tridente. Quattro vade, approfitta di una leggerezza amaranto e chiama in causa Colombo. La partita cambia verso nei cinque minuti finali del primo tempo. Frosali prende il giallo al minuto 40, l'arbitro Manzo vede un gomito troppo alto in questo contrasto con Tascini e tira fuori il cartellino per il difensore. Tre giri di lancette e Frosali invece di temporeggiare interviene di nuovo su Tascini in scivolata. Per l'Arezzo è palla piena, per Manzo è fallo, secondo giallo è rosso, seconda espulsione stagionale per Frosali che lascia l'Arezzo in dieci e Mariotti lo segue. Spedito anzitempo negli spogliatoi pure lui, ma non è finita perché su questa palla vagante dentro l'area Biondi va dritto su Folino sotto gli occhi di Manzo, che concede ai bianconeri il rigore per schiudare il risultato. Tascini, 0 gol con il Gavorrano nella prima parte di stagione e 11 dopo il trasferimento alla Pianese non sbaglia dalla dischetto, sale a quota 12 e porta avanti i padroni di casa. Si ricomincia con Pin al posto di Persano e l'Arezzo che gioca 4-3-2. Nei momenti di difficoltà ci si aggrappa alle certezze e Cutolo lo conferma. Il 10 sposta palla sulla sua mattonella e disegna un tiro imparabile che va a togliere la ragnatela dall'incrocio dei pali. Quinto gol per il capitano in stagione e partita che torna in parità con i 50 retini del settore ospiti che fanno festa. L'Arezzo però sbanda e la Pianese ricomincia a premere. Tra il minuto 7 e il minuto 9 l'Epri indiavolato fa tremare i pali della porta di Colombo, sfiorando il raddoppio bianconero. È il momento di maggiore difficoltà per gli Amaranto che però restano in vita e aggrappati all'1-1. Mariotti da bordo campo dà ordine di inserire via via Benedetti, Sicurella e Doratiotto, che al 39esimo va a un passo dal clamoroso ma non immeritato gol del 2-1. Folino e Crispino combinano un disastro e l'attaccante viene murato in extremis nella circostanza. Doratiotto si fa anche male, deve abbandonare il campo. Al suo posto entra Niccolò, Marras sembra finita, invece Convitto va a mettere dentro il suo 15esimo pallone stagionale con questo diagonale che entra in rete dopo una carambola. Con il palo lontano, Colombo stavolta può solo guardare. Manzo concede 5 minuti di recupero in cui l'Arezzo getta il cuore oltre l'ostacolo. Marras con questo colpo di testa fa gridare al gol ma Crispino salva con un colpo di Reni che gli vale il 7 in pagella. Poi al 93esimo zona si inventa una giocata d'attaccante vero, sfonda in area e viene messo giù da Ambrogio. Manzo vede tutto e comanda il decimo rigore del campionato per l'Arezzo. Lucido e glaciale, Calderini non sbaglia, palla di qua, Crispino di là ed è 2-2. Un punto che vale le più 4 sul Gavorano in classifica, che allunga la serie utile e conferma la forza di carattere di una squadra che qualche settimana fa una partita del genere l'avrebbe sicuramente persa.